weh non fare il magazzino muffito da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi finalmente abbiamo tutti scaricato la patch 10.20 ieri nel primo pomeriggio e il nostro kevin è tornato per tutti quelli che non lo avessero vissuto l'anno scorso il cubo non era proprio così o meglio prima di sostenere l'isola era un cubo e basta che andava in giro per la mappa disegnando delle rune che poi si sono collegate tutte alla storyline tanta tanta roba per questa patch insieme al cubo arriva anche ovviamente la zapper trap che però andremo a vedere siccome ci sono stati dei problemi proprio con la zapper la chiamiamo così molto più velocemente vi farò vedere anche un trucco per poterla counterare visto che è veramente op ma l'argomento clou del video di oggi è finalmente il dark legends pack ufficiale è stato scoperto ve lo farò vedere in game proprio quindi nel gioco ed è veramente molto molto interessante ad alcuni piacerà ad altri sicuramente no però ragazzi l'importante è comunque sapere quello che c'è da prendere se volessimo portarcelo a casa ed ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di fortnite prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che utilizzano il mio codice creator xuderone grazie di cuore l'ho appoggiatato qua dietro dove l'ho messo è qua grazie di cuore per utilizzare il mio codice ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima e ve la ve la devo ve la devo fare raga la domandina non posso non farvela domandina che dai per chi segue i miei video potrebbe già averla capita ed è molto semplice cosa ne pensi della nuova trappola folgorante dai ragazzi io ho visto non ho avuto il piacere di provarla perché non sono riuscito a trovarla e poi ho dovuto chiudere la live sono uscito quindi ho visto i gameplay e wow ci abbiamo preso si poteva veramente attaccare alle strutture nemiche tanta roba e quindi la rende secondo me una trappola op chi di voi l'ha provata mi scriva qua sotto cosa ne pensa se ci sta o se non ci sta ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a parlare ancora due secondi della nuova zapper trap quindi la trappola trappola folgorante chiamata in italiano sappiamo che è di realtà epica si trova in stack da due se ne può portare fino a quattro si attacca ai alle strutture nemiche e fulgura veramente i nemici danno 50 ogni due secondi quindi per otto secondi si può volendo fulminare un giocatore full shield la cosa molto interessante intanto per chi non l'avesse visto ecco ovviamente che non si vede il trailer della zapper trap ragazzi il trailer ufficiale se ve lo siete persi come vedete è veramente un qualcosa di op perché folgura tutto quello che è presente nel suo raggio di azione e appunto veramente tanta tanta roba forse quello che non sapete è che esiste un modo per counterare un giocatore che ci lancia una trappola sulle nostre strutture e banalmente ragazzi è una stupidaggine ed è talmente stupida che è geniale guardate come si countera la zapper trap vediamo se riesco a fartela vedere eccola qua noi stiamo questa è in creativa basta semplicemente che se sappiamo che un nostro avversario ha la trappola noi teniamo il nostro muro totalmente da modificare quindi come vedete riguardate noi mettiamo la modifica sul muro e come vedete l'avversario non può agganciare la trappola sul nostro muro ve lo faccio rivedere molto velocemente dall'inizio così lo avete già ben chiaro lo mettiamo tutto in modifica lui tira le trappole ma purtroppo non si attaccano perché appunto banalmente il muro è da modificare ed è un bug veramente sfruttabile al 100% che potrebbe anche salvarvi la vita perché se sapete dovreste essere veramente molto veloci a capirlo ma se sapete che il vostro avversario ha delle trappole mettendo la modifica sul muro è molto facile che la trappola lanciata gli cade indietro quindi tanta tanta roba anche per questo bug ma andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi e se riusciamo a trovarlo ovvio non riusciamo a trovarlo non riusciamo a trovarlo siamo sempre nella zap il la nostra patch notes non ho avuto modo di caricare il video ragazzi quindi oltre a tutta la descrizione che abbiamo già visto c'è finalmente un'altra intanto la zappertrap ragazzi è stata già disabilitata per questo ho detto chi è riuscito a provarla perché praticamente avevano hanno trovato un casino cioè tu utilizzavi la zap e ti chiccava dal game quindi ma dai non puoi farmi queste cose sicuramente avrete notato che non c'è la zap in game cioè ok bella sto facendo un game tiro la zap vengo chiccato dal gioco non è fantastico io amo epic games perché mi fa le minchiate e oltre a farmi le minchiate ai bug sulle minchiate quindi veramente un qualcosa di eccezionale qua invece volevo soffermarmi ragazzi sulla nuova isola fluttuante non c'è neanche bisogno che ve ne parli basta semplicemente ragazzi che ve la faccia vedere ovviamente come sempre è un casino ma eccola qua ragazzi isola fluttuante che già era presente nella season 6 appunto quando il cubo emerse dal da sotto all'isola quando si sciolse nell'ex loot lake qua è un casino ragazzi la storia di fortnite questa l'abbiamo vissuta tutta e adesso sull'isola che è leggermente diversa da quella originale c'è il motel e c'è come vedete tutte le sezioni anche se non ricordo male come si dice la piscina esterna e tutte queste sezioni che facevano parte sia del vecchio motel ma secondo me c'è anche qualcosa della vecchia casa fluttuante perché non mi sembra proprio tutto così il motel un sacco di cesta dentro l'isola anche all'esterno dell'isola come avete visto un distributore addirittura quindi tanta tanta roba c'è anche una delle sfide che verrà rilasciata molto presto che è la sfida quella di return si chiama il gruppo di sfide che vi chiederà di salire proprio in cima all'isola quindi basta semplicemente che atterriate sulla testa del burger ma andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi e siamo arrivati all'argomento più interessante sempre un casino con gli slide intanto i prefabbricati che hanno inserito sono stati confermati ve lo avevo detto le prigioni e il laboratorio della latrina chissà se veramente torneranno oppure no nel battle royale intanto sono disponibili in creativa per farvi divertire ma l'argomento clou ragazzi queste skin le conoscete sicuramente sono il jolly il cavaliere rosso e johnsy skin che sono state prese per il nuovo dark legend bundle il nuovo bundle della season x per i collezionisti ovviamente un'occasione per ottenere tre skin che si aggiungono al deep freeze bundle al lava legend bundle al dark shadow bundle mi sembra si chiamassero così tutti e tre ragazzi ve lo voglio far vedere in game quindi tanta tanta roba ragazzi non ci si allontana da quello che vi avevo mostrato qualche giorno fa queste sono i footage ufficiali quindi le skin in game presenti nel dark legend bundle questo è il cavaliere cornuto non si capisce bene perché gli abbiano messo le corna povero cavaliere questo è johnsy ragazzi johnsy sarà veramente così tanta tanta roba anche per johnsy che alcuni l'hanno un pochettino criticato nei nei miei post di instagram non non vi è piaciuto molto il johnsy secondo me non è così brutto ed eccolo qua invece la versione della skin jolly non so se avete notato ma tutte le colorazioni viola che ci sono sulla faccia delle skin sembrano quasi pulsare quindi potrebbe essere una cosa che in realtà ci sia veramente un effetto al neon viola insomma ragazzi un bundle davvero interessante che sicuramente farà gola ai collezionisti io penso che lo prenderò anche io giusto per tenerlo appunto in collezione insomma ragazzi io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche oggi questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle otto in live otto e mezza in live devo far colazione prima ciao ciao Grazie a tutti.